Abbiamo indetto questa conferenza stampa per presentare una proposta di legge che la Lega deposita nella giornata odierna per istituire una commissione di inchiesta parlamentare della Camera che vada a verificare come vengono spesi i soldi legati al fenomeno dell'immigrazione. Dopo i fatti e l'inchiesta di Roma vorremmo riuscire ad estendere su tutto il territorio nazionale le verifiche e togliere quel velo di opacità che troppo spesso è presente all'interno di cooperative odollus che hanno in gestione il business, perché purtroppo dobbiamo parlare di quello, visto anche quanto è emerso a Roma, dell'immigrazione. Noi siamo stati come Lega i primi a sottolineare che l'immigrazione incontrollata, favorita da questo governo, era un business per la criminalità organizzata. Quando la Lega diceva e dice questo, ci veniva dato dei razzisti, degli xenofobi, delle persone che non sono vicine ai drammi umani, nella realtà è emerso in modo palese che quanto dicevamo drammaticamente rappresenta la realtà in questo paese. Siamo stati primi a denunciare appunto queste condivenze tra politica e criminalità organizzata. Siamo stati primi a voler limitare l'ingresso di migrazione clandestina dicendo che da una parte non era accettabile dal punto di vista sociale ed economico, dall'altra andava ad alimentare una criminalità che purtroppo abbiamo visto continua ad operare, ha continuato ad operare indisturbata Roma e la nostra preoccupazione è che i casi non siano limitati esclusivamente alla città romana. Oggi, ovviamente i miei colleghi poi approfondiranno i temi, però vorremmo sottolineare come i soldi legati all'immigrazione siano assolutamente gestiti con poca trasparenza. Ricordo che diverse inchieste giornalistiche hanno fatto notare come rispetto ai 30 euro più IVA, quindi più di 36 euro al giorno, che viene garantita alla cooperativa solo per quanto riguarda la cooperativa, poi ci sono 2,5 euro al giorno di money transfer, 15 euro di scheda telefonica, siano assolutamente le spese che non corrispondano al budget assegnato loro dal pubblico e con i soldi di tutti i cittadini. Abbiamo visto che più di 10 euro al giorno rappresenta l'utile, tra virgolette, per ogni clandestino alloggiato, se ovviamente tutto questo, se tutti i servizi vengono garantiti, perché in molti casi anche gli stessi servizi non vengono garantiti. Abbiamo visto come, e qui abbiamo anche i vari punti di alloggio nelle diverse zone d'Italia, come quanto emerso dall'inchiesta di Roma è assolutamente veritiero. Infatti la città di Roma ha 2.581 posti assegnati, con una disponibilità ancora di 516, quando si partiva al massimo da 250 posti che dovevano arrivare alle città con più di 2 milioni di abitanti. Abbiamo visto come il legame strettissimo che esiste tra cooperative e una parte della politica. La Lega Cop, a cui risponde la cooperativa 29 giugno, deve dare delle spiegazioni. Non è estranea a quanto è avvenuto a Roma e quanto avviene con altre cooperative presenti su tutto il territorio nazionale. C'è il caso per esempio di Gorizia, con il C.E. di Gradisca di Sonzo, in provincia di Gorizia, gestita da una cooperativa, una cooperativa che ha diversi processi a suo carico, che continua indisturbati in altre aree d'Italia a continuare ad operare. Vorremmo capire perché non sono resi pubblici da parte di unione di queste cooperative o onlus come viene speso ogni singolo euro. Sono soldi pubblici. A chi vengono dati? A chi viene dato poi in secondo grado ovviamente l'appalto da parte delle stesse cooperative per gestire l'alloggio, per gestire il vitto? Noi vogliamo fare questa commissione di inchiesta per rendere trasparente e spiegare ai cittadini che i 500 milioni di euro, con l'amico di Nicola se sbaglio, spesi soltanto dall'inizio dell'operazione Mare Noso, soltanto per l'accoglienza di queste persone, più gli altri 187,5 milioni di euro messi in questa legge di stabilità da Renzi. Vogliamo dire ai cittadini come vengono spesi? Se vengono spesi in modo trasparente o se invece sono un aiuto a persone vicine a qualche personaggio o qualche partito politico. Non è che la Lega Copp sono vicine soltanto quando bisogna dare forse un contributo per qualche campagna elettorale. Le Lega Copp rimangono vicine anche quando avvengono casi di questo tipo e qualcuno deve risponderne. Allora io passerei la parola a Nicola Molteni, che è capogruppo in Commissione Giustizia, a chi parla in modo più approfondito di questa proposta di legge. Grazie. Io non aggiungo molto di più rispetto a quello che ha detto Massimiliano Fedriga. Io credo che dai fatti che si stanno verificando in questi giorni su questa mega inchiesta a Roma emerga chiaramente che la Lega aveva ragione. E come spesso capita, la Lega denuncia queste vicende prima ancora che si verifichino. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'operazione Mare Nostrum, e oggi abbiamo capito che l'interesse e il sostegno al mantenimento dell'operazione Mare Nostrum è molto probabilmente da parte di alcuni un sostegno non disinteressato. Il fatto che si voglia insistentemente e spesso e volentieri sentiamo associazioni, piuttosto che il mondo delle cooperative, piuttosto che la carta a sostenere la bontà del mantenimento dell'operazione Mare Nostrum, ci verrebbe da dire che probabilmente questo sostegno non è totalmente disinteressato. Noi siamo stati i primi a denunciare che l'immigrazione, l'immigrazione incontrollata, l'invasione di Mare Nostrum era e poteva tranquillamente tramutarsi un business per pochi, e oggi stiamo vedendo chi sono i pochi, e un danno invece per molti altri, e molti altri sono tutti gli altri cittadini italiani. Qualche settimana fa il Parlamento ha votato una commissione d'inchiesta per poter verificare i diritti degli immigrati all'interno dei CIE. Questa invece, quella che noi presentiamo oggi, è una proposta di legge per istruire una commissione d'inchiesta secondo il principio della trasparenza. Vogliamo capire chi ci guadagna e chi specula, utilizzando il denaro pubblico, sulla pelle dei cittadini italiani da un lato, e anche, mi sia consentito dire, anche sulla pelle di coloro i quali arrivano nel nostro Paese, e probabilmente hanno, sono una piccolissima parte, diritto ad avere lo stato di rifugiato politico. Ci sono delle procedure che a nostro avviso non sono assolutamente chiare, non sono assolutamente trasparenti. La procedura di finanziamento degli SPRAR, che è il sistema di protezione per i richiedenti asilo, che viene attuato dal Ministero, tra l'altro sintomatico il fatto che una delle persone che è stata coinvolta e indagata sedesse appunto su uno di quei tavoli che decidevano le assegnazioni ai comuni, secondo il principio degli SPRAR. Noi vogliamo capire le procedure che vengono attuate attraverso le prefetture, con bandi pubblici che vengono azionati, attraverso delle convenzioni che vengono stipulate con i soggetti che gestiscono i centri d'accoglienza, ma non sono solo i centri d'accoglienza, ma sono anche strutture private, sono anche ex caserme, ex strutture pubbliche abbandonate. Noi vogliamo capire e vogliamo che ci sia la massima trasparenza rispetto a queste procedure. L'utilizzo di questi soldi pubblici non viene mai rendicontato. Il pagamento dei servizi, e sono i servizi che diceva prima Federica, vinto alloggio, le spese telefoniche, l'utilizzo dei servizi di igiene personale, l'utilizzo del mediatore culturale, tutti i servizi che sono legati al sistema di accoglienza, vengono pagati non attraverso una documentazione formale, ma vengono pagati in maniera forfettaria. Allora io credo che, proprio perché sono soldi pubblici, e proprio perché se qualcuno afferma che il business dell'immigrazione rende molto di più che il business e il traffico di droga, io credo proprio per fare chiarezza in un momento anche di difficoltà di crisi economica, di mancanza di risorse pubbliche, visto che non parliamo di poche migliaia di euro, ma l'oscillazione dei costi di accoglienza e di gestione di questi soggetti oscilla tra i 500 milioni di euro e i 700 milioni di euro, però sarebbe anche interessante che il Ministro Fano facessero una volta chiarezza, il Ministero dell'Interno facessero una volta chiarezza di quanti sono effettivamente i costi legati al business dell'immigrazione, immigrazione che tra l'altro non sta assolutamente cessando. Negli ultimi dieci giorni sono sbarcati sul nostro territorio 5.000, noi li chiamiamo clandestini, la Boldrini li chiama migranti, sono 5.000 persone in meno di 10 giorni, quindi vuol dire che l'operazione sbarchi continua, se continua l'operazione sbarchi vuol dire che continua anche l'operazione accoglienza, dato tutto a carico del nostro Paese, e siamo fortemente preoccupati perché oltre ai soldi alla cifra tra i 500 e i 700 milioni di euro che abbiamo appena detto, nell'ultima legge di stabilità il Governo si sta andando a votare un ulteriore rifinanziamento per 187 milioni di euro per tre anni, altro mezzo miliardo di euro per gestire questo fenomeno. Noi chiediamo chiarezza, chiediamo di capire, e chiediamo di capire proprio perché quello che sta emergendo è drammatico, è vergognoso ed è probabilmente indegno rispetto ad una situazione economica che dovrebbe portare, che porta oggi il Governo italiano a spendere 12 miliardi di euro per i costi diretti e indiretti dell'immigrazione, quindi è una proposta di legge per chiedere trasparenza, per togliere quella fascia d'ombra e di grigiore che si sta ammantando sul problema e sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, che sta rendendo ricchi alcuni e che sta lanciando l'ennesima ombra indegna sul nostro Paese. Allora, intanto grazie mille, ci sono ancora poche cose da aggiungere. Io vorrei focalizzare il ragionamento anche perché in questi fondi ultimi che sono stati trovati per l'accoglienza di queste persone sono stati tolti dai fondi per le espulsioni. Dunque questa legge, questa commissione d'inchiesta servirà anche per verificare se veramente le procedure di identificazione e dunque dopo quindi anche per l'espulsione sono veloci abbastanza oppure siccome ogni volta che si tiene qualcuno in un centro arrivano dei soldi, magari ci sono degli intoppi burocratici, di tempistica e qualcuno lucra anche sul discorso di mantenerli qua. Perché se riusciamo immediatamente a capire chi non ha diritto e sono la stragrande maggioranza delle persone che sono candestine e dunque non hanno diritto di rimanere in Italia e dovrebbero essere espulsi, perché non li spegniamo immediatamente? Ci costerebbe molto meno. Perché è vero che bisogna prendere delle persone e con la polizia perché li scortino e vi dicendo bisogna trovare gli aerei e vi dicendo. Però si potrebbero utilizzare dei voli charter, si potrebbero utilizzare anche voli militari per quanto riguarda i carchi che ci sono con un risparmio molto elevato di risorse. Ma probabilmente fa comodo che rimangano dentro ai centri. Perché se rimangono ai centri i soldi arrivano a chi gestisce quei centri. E come certe volte si sente che vengono fatte queste convenzioni e qualcuno va via di questi clandestini e non vengono magari segnalati immediatamente. Dunque ci sono tante tematiche che bisogna fare chiarezza perché non bisogna speculare sulle persone ed è quello che stiamo dicendo. Se c'è un problema di emergenza per quanto riguarda umanitaria noi l'abbiamo detto fin dall'inizio proviamo insieme a tutta l'Europa e dovrebbe essere un compito dell'ONU di fare campi profughi come normalmente si fa nei casi soprattutto di guerre nei confini di quegli stati anche perché la logica che si è sempre utilizzata a livello internazionale è di fare dei campi abbastanza vicini tutelati con tutte le tutele ma con la possibilità successivamente che queste persone possano ritornare nel loro territorio a riapproparsi dei propri beni e ritornare ad avere una vita nella loro società. Dunque questo non riusciamo a capire perché non si fa. Noi vogliamo questa commissione di inchiesta che come è già stata detta è differente da quella che abbiamo votato perché è quella che è stata votata anche se noi abbiamo tentato di modificarla e semplicemente vedere come sono l'accoglienza delle persone noi vogliamo capire come si spendono i soldi e qual è la vera gestione e il vero business che c'è sotto questa grande operazione mediatica che stanno portando avanti questo governo e associazioni e ONLUS. Grazie Matteo adesso passo la parola a Cristian Invernizzi che è componente della prima commissione soltanto 15 secondi per riassumere quindi noi facciamo una commissione di inchiesta per sapere come vengono spesi soldi da queste cooperative e da queste ONLUS in tutto il territorio nazionale secondo se vogliamo anche verificare se c'è una vicinanza di queste cooperative a queste ONLUS a qualche soggetto politico e quale soggetto politico si parla per cui vogliamo far chiarezza e mettere davanti ai cittadini chi guadagna col business dell'immigrazione clandestina Cristian Sì grazie in estrema sintesi noi vogliamo con questa commissione di inchiesta sostanzialmente incendiare una situazione che non è più sostenibile il Presidente del Consiglio ieri in question time ha accusato la Lega Nord ancora di fare propaganda sulla paura di parlare alla pancia delle persone proprio poche ore prima che esplodesse il caso che poi invece ha dimostrato come la nostra non è propaganda e il Presidente del Consiglio non può pensare di affrontare questa questione semplicemente in un'ottica politica cioè da segretario del Partito Democratico commissariando il Partito Democratico a Roma per vedere cosa è successo Renzi non è solo segretario del PD è il Presidente del Consiglio lui e la maggioranza che lo sostiene adesso non possono girare le spalle di fronte a una questione che è gravissima in tutte le sue componenti di fingere che come si sta facendo in queste ore guardare dall'altra parte che quello che noi abbiamo detto per mesi non era frutto di una deriva lepenista del partito di Salvini non era frutto del razzismo ma era sostanzialmente un allarme lanciato nei confronti di coloro che ammantano sempre con un velo di cioccolato tutto ciò che invece poi guarda dietro altro non è che putrido necessita da parte di questa maggioranza di una risposta chiara e netta poche settimane fa come diceva prima l'onorevole Molteni durante il dibattito che ha portato all'istituzione di una commissione parlamentare una commissione della Camera circa il controllo del rispetto dei diritti civili all'interno dei CIE c'è stato praticamente un tiro al bersaglio di 600 deputati contro i 20 della Lega Nord dicendo ecco voi vi opponete perché siete razzisti no noi ci opponevamo perché dicevamo che la finalità politica di quella commissione altro non era che trovare ragioni per chiudere i CIE per dimostrare come in Italia nei CIE e in tutti gli altri vari centri analoghi i diritti dei extracomunitari non siano tutelati e pertanto chiuderli noi rimandiamo al mittente tutte le accuse fateci in quella sede e adesso chiamiamo la maggioranza la propria responsabilità andiamo a vedere quanti miliardi sono stati sprecati quante persone hanno mangiato in modo schifoso su una questione come quella dell'immigrazione di fronte alla quale soltanto la Lega Nord ha avuto il coraggio di vedere le cose come stanno come stanno Grazie.